Atterraggio d'emergenza in un campo in Casentino per un elicottero militare della marina albanese è successo questa mattina in un terreno di Cerro Mondo nel comune di Poppi. Attorno alle 11 il velivolo di rientro in patria dalla Francia ha infatti avuto un guasto improvviso, si è resa così necessaria l'attivazione delle procedure d'emergenza da cui l'atterraggio di fortuna. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Bibiena che hanno identificato l'equipaggio di un velivolo militare albanese con a bordo due ufficiali tra cui pilota e comandante. Ad evitare il peggio è stata proprio la bravura e la prontezza del pilota. Tutti i membri dell'equipaggio infatti stanno bene, nessun ferito nemmeno tra la popolazione e nessun danno alle strutture. A scopo precauzionale visto che tutti e quattro erano già risultati negativi ad un tampone effettuato prima di partire per la Francia ed intesa con l'ASL i militari saranno comunque sottoposti ad un nuovo test. Sul posto adesso interverranno i tecnici specializzati per valutare l'entità del danno in corso intese tra le autorità albanesi italiane per il recupero dell'elicottero che intanto è stato posto in sicurezza e sorvegliato per evitare che qualcuno possa avvicinarsi.